L'arte è anche sperimentazione? Sì, in questo caso siamo molto onorati di sperimentare l'isopolifonia albanese che è appunto anche patrimonio culturale dell'UNESCO e quindi oltre al valore che l'isopolifonia ha, noi abbiamo la fortuna di poterla sperimentare in prima persona, quindi non solo per sentito dire. Spesso si parla di contaminazioni anche quando si parla di musica, di arte e in questo caso può essere un incontro tra la polifonia occidentale e l'Albania. La musica è senza lingua, quindi è un linguaggio universale che tutti possono in qualche modo capire. Questo incontro ha avuto una grande importanza perché ci ha dato modo di conoscerci in un'altra maniera in due popoli così vicini come l'Italia e l'Albania. Tutti questi 40 anni aveva girato tanto per l'Italia, circa 50 paesi in Italia, però era la prima volta che veniva ad Arezzo. Questi allievi sono stati bravi. Lui è molto contento perché ha avuto dei allievi comunque molto attenti, molto aperti.